ragazzi in questo video in questo video dovremmo fare tipo il gioco della nonna io sono la nonna e mi devono lanciare le cose se vinco io devo vincere io non il mio coltello gabriele fuori no no non sono fuori io l'ho lanciato matteo no una padella oddio mamma mia no raga no 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 mamma mia e poi esce se sei la nonno mamma mia ora raga a te lanciato lo sai si ok non si carica la roba via 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 bottiglia no mamma mia sto schiattata ma arrivo eh ma io non posso entrare dentro non posso entrare sono arrivato sono la nonna vieni dalla tua nonna eh a posto morta è morta la nonna oh ti arriva a caccia in culo a posto Gabriele 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 un po' l'ho visto prima Rocca rocca vieni 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 qui rocca dove stai rocca ma io sto a fare la voce della vecchietta vabbè oddio ma mi ha dato una colterlata ma dove stai mamma mia raga ma avete lanciato tutto a posto dove stai a posto uno morto a posto un altro ma Gabriele a posto l'ho morto si l'ho morto a posto oddio mi ha fatto cadere mi ha ammazzato dai ma no raga scusate ma c'è andata via la corrente dunque dobbiamo di nuovo rigiocare dove sta la nonna sta di fuori allora che c'è io qui dentro non c'è niente non c'è degli un sasso una torta come faccio come faccio a toccare cioè devo toccare ho trovato una bottiglia ovviamente vai vicino a una cosa no qui non te la fa piaccia dove sta di fuori no ferma dai qui non c'è niente ecco la apri qui non hai chiavi presa granny a presa perché 14 taschi c'è scritto raga di fuori c'è una casa gigante però servono molto di chiavi ah io non so dove stanno le chiavi io ne ho due allora io ti tiro il cesso io ti tiro nella porta io ti tiro raga gli sto togliendo ah sto togliendo un po' gli sto togliendo raga cioè oh io ho preso la bottiglia ho preso la bottiglia dove sta ho messo una trappola ho messo una trappola ma ha preso a calci raga ho messo sta nonna in carriola oh ma te qui stanno due ascia oh oh io posso tirare il piatto dove sta ci stanno due ascia dove sta però le puoi prendere dove sta dove sta infatti ho un ascia io le puoi prendere si può prendere quel cesto tipo la pala chi ha la pala io ho preso il piatto e io l'ascia guarda dietro guardami non è nata ma raga si sta a fare la vita si sta a fare stava 60 dove è si sta a fare stile la vita dove è all'ospedale perché vedete quella roba verde la cura che è cadè si è proprio più al mattino che non lo so no la mia ascia dov'è mamma mia l'ho persa va bene ci stanno a trarmi dove sta la nonna eccola al garage dove davanti al garage a posto morta oddio ma oddio ma ride tantissimo sto gioco è la bottiglia morta chi l'ha ammazzata bellissimo dei care no io ho dei care ora dei care si dei care vediamo 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 io io rocas mamma mia che brutta questo è l'ultimo round oh c'ho un giocattolo qui c'è più roba qui c'è una pala io faccio il castello di sabbia ma un'altra no una palla io tiro sto cascata raga io sto tirando una palla oddio io sto tirando una cosa di ciambelle io ho di no l'ho lasciata da sabbia da sabbia da sabbia no no ho pochissima vita io tiro il parto pranzo ma io sono la mia in questo caso è la mia in realtà non è la nonna che cosa è sta roba coltello da macellaio cacchio la bottiglia la bottiglia eccola no mi ha dato un calcio in culo ho dato solo la lavagna oddio che l'ho tirata l'ho tirata nella mano no questo gioco è horror no è un po' horror mamma mia schiattata missione codo no perché a me la palla la palla la palla ma perché ci stanno le bine dentro l'ostra no perché io non mi fai prendere la chiave no ora ho sto più dei chiavi no regà ho 50.000 chiavi ho un coltello tabagascio no ho un coltello che è che regà ho la pistola no che è la mola regà prende fuoco no non l'ho chiesa regà io tiro il giocattolo non prende fuoco l'ho tirato quella roba vai ecco con me no io non ho tirato chi ti ha tirato quella roba io ho tirato il fuoco però ho tirato la lei non ho tirato il fuoco l'ho trovato comprando le chiavi no non si può prendere la palla ah si si può prendere raga avete le chiavi mi sentite qua dentro mancano quattro chiavi mi raga hai quattro chiavi non stai ah sper 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 mi vedete tu la palla di coltello andiamo ah no madonna ma io non tirai l'edificio ma se vuoi tirai no l'edificio non è una miseria è che è la macchina ottimo oppure con coltello insomma ho preso un pennello la miseria ho preso un pennello ciao ho preso un pennello ho preso un pennello mamma mia è mortale è immortale no ho il mio pennello ma se gli tiro il cesto che gli fa a parte che non lo fa prendere chi non me l'ha rubato il pennello basta cosa vuoi da me raga ce l'ha con me maestra ho tirato un sasso glielo tiro a lei non mi vuoi parlare esaurita sta maestra ma io dico la messa perché sto a dire sempre della scuola perché se no no ma perché ce l'ha con me oddio ma non la chiappo ma è invisibile è obbligato questa qui è matta così arriva a calci bambini la matta dunque va bene ragazzi spero tanto di questo video se vi è piaciuto iscriviti al canale iscriviti al canale attivate la campanella lasciate un bel like lasciate un bel commento e condividete i video con i vostri amici o parenti ciao e al prossimo video